Facciamo un giro tra i commercianti per vedere come sono andati i saldi in questa stagione. Sono andati bene, ci siamo spostati qua il 22 di dicembre, prima eravamo a Santa Marinella, quindi comunque sicuramente anche la novità, e sono andati bene. Quindi vi potete ritenere soddisfatti? Per il momento ci possiamo ritenere soddisfatti. E qual è stato l'articolo che avete venduto maggiormente? L'articolo che abbiamo venduto maggiormente e che continuiamo a vendere maggiormente sono le tute basic, quindi le tute classiche strette sotto in caviglia con i lacci lunghi. Sono quelle che ovviamente vendiamo più di tutte, di tutti gli articoli che abbiamo. È stato un trend normale, niente di particolare, quindi infatti già abbiamo rinnovato tutto con le nuove collezioni. C'è stato un capo che avete venduto maggiormente? Ah, diciamo più il capospalla tendenzialmente va in questo periodo, è maglioncini, poi il resto è più tranquilla come vendita diciamo. Bene, diciamo che comunque a differenza dell'anno scorso c'è stato un po' più di calo, però abbastanza, comunque ci siamo ritrovati bene. Che cosa avete venduto maggiormente? Maggiormente maglioni, pantaloni e jeans, comunque il classico giacconi, a civile vecchia purtroppo il tempo non è freddissimo, quindi si usa poco, però è stato bene, è andato abbastanza bene. Che tipo di sconto avete applicato? Allora, noi partiamo come outlet dal 30 al 50% nella parte comunque quella dei nuovi arrivi e poi andiamo quando in saldo dal 50 al 60%, abbiamo fatto anche dal 60 al 90%, quindi erano abbastanza buoni i sconti. È riuscita a fare acquisti in questo periodo dei saldi? Sì, qualcosa ho preso, poco, perché avevo già dato prima di Natale, cioè a novembre, al break friday. E qual è il capo che ha acquistato maggiormente o comunque cosa ha acquistato? Abbigliamento, abbigliamento per me e mio marito. Ci ritagliamo quel piccolo spazio annuale per poterci fare qualche regalo. Io veramente non ho speso per i saldi. Non ne avete approfittato quindi? Ha acquistato durante il periodo dei saldi? Sì. E qual è il capo che ha acquistato maggiormente o cosa ha acquistato? Ma abbiamo un po' di tutto, dalle scarpe, dal piumino, un po' di tutto. Quindi ne ha approfittato e le ha trovate? Infatti ne approfitto sempre quando ci sono i saldi. Le ha trovati convenienti? Sì, abbastanza.